C'è gente che dice, io non ci credo a Dio, ma non so, ma credo in questo santo. No, è sbagliato. Il santo è un intercessore, uno che prega per noi, e noi lo preghiamo, e prega per noi e il Signore ci dà la grazia, il Signore, tramite il santo. Non è una cosa magica, non è una superstizione la devozione ai santi, è semplicemente parlare con un fratello, una sorella che è davanti a Dio, che ha percorso una vita giusta, una vita santa, una vita di modello, e adesso è davanti a Dio. E io parlo con questo fratello, con questa sorella, e gli chiedo la sua intercessione per i bisogni che io ho.